Eccomi! Vi porto gli auguri di Alessandro del Pieno e di Cristina Chiabotto e naturalmente di Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute e tanti tanti auguri anche da me! Certosa, un talombarda dal cuore tenero, come la Giovanna che aveva la fissa degli animali Quella volta che si era nascosta su un albero, solo una cosa poteva farla scendere La tenerezza della Certosa, a quella non avrebbe mai rinunciato Certosa, il cuore tenero di Galvani Di Certosa ce n'è una sola, da oggi ancora più buona Qualcuno è resistente Qualcuno è lungo Qualcuno è morbido Ma Scottex l'originale è resistente, lunga e da oggi incredibilmente morbida Oh, Scottex, la nuova morbidezza vale di più Mia adorata Il nostro viaggio si sta rivelando anche oggi ricco di emozioni I preziosi tesori di antiche civiltà si offrono ai nostri occhi in modi sempre più sorprendenti E siamo sul punto di fare luce Usare dispositivi elettrici in modo incauto può causare infortuni Noi di Reale Mutua ti assicuriamo al meglio ma da proteggerti pensaci anche tu Chiedici qualche consiglio O vai su RealmenteProtetti.it Quando ti senti attivo tutto è più facile Per mantenere attiva la flora intestinale puoi prendertene cura con Enterogermina Le sue spore arrivano attive all'intestino per mantenere l'equilibrio della flora O ristabilirlo in caso di cura antibiotica o diarrea Enterogermina aiuta la flora a mantenersi attiva È un medicinale a base di spore di Bacillus clausi Leggere attentamente il foglio illustrativo Con Fornay Magazine Cecilia, la sexy sorella di Belen Cecilia Rodriguez Nel calendario più volente dell'anno Solo 3 ore 90 in più Cairo Editore Kimbo Coffee Hour A Coffee Hour c'è una nuova arrivata È Kimbo Compatta Grande il piacere dell'espresso Piccola la macchina Scoprila su KimboCompatta.it Quando arriva il mal di gola Puoi nebulizzare tanto un verde L'effetto lievemente anestetico della benzidamina Circonda e dissolve il dolore Ciao bocca sana E quando il mal di gola è forte Puoi nebulizzare tanto un active gola con furghi profene Mirato dove serve Ti dà un rapido sollievo Mentre cura l'infiammazione Mal di gola? Pronto sollievo Due volte tantum Tantum verde o medicinale Tantum active gola è un medicinale Che può avere effetti indesiderati anche gravi Leggere attentamente il foglio illustrativo Da Angelini Dal sole più caldo E dal cuore dei pomodori più succosi Nasce la passata 500 cirio Nella pratica bottiglia Infrangibile La passata è densa La bottiglia è morbida Mmm che risotto Dottor Scotty Certo è più che un risotto È riso scotto Grazie a tutti